Dopo la violenta lite all'ospedale, Donato considerò la sua relazione con Loredana come acqua passata. Il Milan tornò ad essere il suo chiodo fisso e ricominciò a frequentare gli amici tifosi. Sì, violenza! Sì, imbecillo, leozine, sbaglio, immite. Ron, ti sento un tifo subito tra ceppi tutti i... che è? I capi della tifoseria Uventina. Bene santo. Ah, questi sono i fratelli massoni, muratori, hanno un unico animale da adorare, l'Alce Struzzo. Questi sono miei. Questi tu li lasci stare. All'imite ci penso io. Esatto, questi ci pensi te. E se li stermini, ti regalo un bel parrucchino rosso-nero. Ma Ron, questi i fratelli che era amazzo, babbo russo, esatto. E mamma ti piace, gli hanno acceppato tutto dalla mamma. Almeno a questi ci pensi. No, tu lasci stare, sempre devo mandare. Questi me li cucino io. Bravo, cucina lì te, agli oggie. Ma Ron, questa è la cozza, quell'illusionista tremendo vendrilo qua. Questo devi stare attento perché lui grida giuendo su la panza, tutti giri, pam, lo schiaffo è violento, il bestiaolo. Questo lo lasci stare. Questo ci pensi ancora tu. Marone Zebrone, questa è una violenza inaudita, fisicamente una bella, la forza di cento braccia, gli stessi di pastamatiche. Questo te lo accepite. E io? Sei tu perché così a me non si tiene lì, non potiamo niente. Avanti. Grazie. Grazie.